Mattinata pescarese per il leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che ha incontrato al Museo Colonna gli amministratori locali del partito per tracciare le linee guida in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. La strategia resta sempre quella di un centrodestra unito. Il centrodestra qui può vincere. Noi possiamo finalmente mandare a casa la sinistra che sta attaccata alla poltrona come un geco sul muro d'estate, che non vuole mandare gli abruzzesi a votare. D'Alfonso ci ha messo cinque mesi a dimettersi. C'è una regione bloccata a ostaggio del PD perché siccome sanno che perdono male le elezioni, chiaramente vogliono tentare di mantenere il potere finché riescono. Centrodestra può vincere, centrodestra può dare a questa regione un governo capace di fare le cose, capace di costruire e non di tenere tutto fermo. Quindi non avrebbe senso che si andasse in ordine sparso. Considererei il fatto di andare in ordine sparso un favore al Movimento 5 Stelle, un patto di desistenza col Movimento 5 Stelle. Quindi segnerebbe l'accordo tra Lega e 5 Stelle, ma un po' al di là anche del governo nazionale. Onorevole, secondo lei tocca alla Lega il candidato presidente anche in virtù degli ultimi risultati elettorali? Guardi, secondo me i candidati non toccano mai a un partito. Il candidato è quello più capace di farlo. Il candidato è quello che può vincere. Il candidato è quello che può meglio governare. Se noi partiamo dal partito che lo deve indicare, abbiamo già perso. E sabato prossimo si terrà a pescara la manifestazione della Lega, a cui ha dato il suo sostegno, d'intesa con le liste civiche per l'Abruzzo, Fabrizio Di Stefano sceso ufficialmente in campo come candidato presidente. I prossimi giorni sapremo quando si andrà al voto. Secondo lei qual è la data probabile? A mio avviso logica sarebbe la prima possibile, cioè entro i 90 giorni delle dimissioni di D'Alfonso. D'Alfonso si è dimesso il 10 agosto, 90 giorni da quella data. Poi ci sono cavilli legati a quella norma modificata l'ultimo giorno di esistenza del Consiglio regionale. Anche questo la dice Lunga su come evidentemente certe cose vogliono essere manipolate. Intanto nel centro-sinistra si aspetta di conoscere il nome del candidato. Il primo è sempre quello del vicepresidente uscente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini, che però scioglierà le riserve nelle prossime settimane. Ma nel PD tengono ancora a banco le dimissioni del segretario regionale Marco Rapino, finito nel mirino di Antonio Castricone, che ha dichiarato come neanche nel momento delle dimissioni, Rapino è riuscito a dare la giusta dignità al ruolo che ha ricoperto in questi anni. Un'uscita di scena forzata, dice Castricone, per di più accompagnata da un ultimo atto di totale asservimento alle solite logiche che lo hanno guidato in questi anni. C'è bisogno di un forte segnale di discontinuità e le sue dimissioni organizzate vanno nella direzione opposta, tratteggiano, concluso Castricone, ancora una volta un modo di procedere fatto di ridicoli, bizantinismi e sotterfugi.